mettere i piselli se chi secondo voi Alex passerà il test dell'integrità mi raccomando amici dovete mettere tutto quello che avete in questo pronostico perché ce la farete e sono sicura che prenderete tantissimi piselli perché vincerete i piselli che sono la moneta del secolo ma no questa è una cosa divertentissima da fare non sembra sembra che ti stai cagando addosso fortissimo ma non è bellissimo no malissimo tutte e due eh tutte e due dovete invitare il pubblico dovete abbracciarli dovete dire che è una scommessa facile allora Giorgia li spaventava perché faceva una deficiente ma mi dispiace no 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 tu invece ti si è girato di nuovo il microfono e tu non gliel'hai detto no abbiamo provato 5 volte come minimo tu mi hai detto che lei era raffreddata qua non è questione di essere raffreddata quale si è girato il microfono e tu non l'hai capito non ho capito e tu sei una demente scusa ma legalo incatenalo come faccio ci ho messo 7 quintali di scotch ma magari si solleva tiralo giù sistemalo acchiappalo turgidalo fai qualcosa lo incatenò il soffitto adesso sre però che delusione che sei anche tu eh ma non ci posso credere capisci un cazzo ogni volta gottati delmi bruno mo 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 mo